ogni giorno. Il brutto, no, essere brutti non è poi un madre natura se ti è fatto brutto. Se sei brutto perché sei arrogante, rapace, aggressivo, Salvini gioca a interpretare. Il brutto. Quelli che... Io pensavo il cattivo Salvini. No, più il brutto perché dice le cose in quel modo, si fotografa mentre le gote riempite da un panino, cioè lui vuole apparire come quelli cui chiede il voto e sa che se lui fosse bello come Brigitte Bardot non lo voterebbero, per invidia, capito? Perché è cattivo per chiudere? Il cattivo.